Le badanti prestano assistenza a una categoria di persone per loro definizione fragili, vulnerabili, parlo degli anziani o nasosufficienti, della disabilità e quindi a maggior ragione è importante per una forma di susela individuale e collettiva che siano vaccinati anche loro. L'appello alla vaccinazione da parte dell'azienda sanitaria Toscana Sud-Est è verso la popolazione delle badanti. Da questo punto di vista purtroppo c'è un'adesione davvero molto bassa. Le badanti est-europee nella sola provincia di Arezzo sono 2.600, sono dati IMSS e calcolando il tasso di adesione alle vaccinazioni dei cittadini est-europei delle donne si calcola che oltre 1.000 siano non vaccinate delle badanti regolamenti assunte. E per sensibilizzare ancora di più la popolazione c'è anche il messaggio di un europarlamentare rumeno. La casa non aggiunge l'ATI sia mai raro in Europa. Offriamo la disponibilità a facilitare la vaccinazione. Ci saranno delle sedute nei giorni che sono il turno di riposo delle badanti, quindi il giovedì pomeriggio e la domenica pomeriggio. Lì saranno presenti i mediatori linguistico-culturali, soprattutto in lingua romena, che è la nazionalità della maggioranza delle badanti nel nostro territorio. Risolto anche il problema di chi si era vaccinato nel proprio paese di origine con vaccini che non erano riconosciuti. Chi l'ha fatto da meno di sei mesi e ha completato il ciclo con Sputnik, per esempio il più diffuso nei paesi dell'est-Europa, deve fare solo una dose booster dei vaccini mRNA, quindi Moderna e Pfizer. Chi l'ha fatto da più di sei mesi invece deve fare l'intero ciclo dei vaccini qui disponibili ed autorizzati. Un'altra importante novità è il fatto che ci si potrà vaccinare anche senza il codice fiscale. Si può accedere anche con un semplice documento di riconoscimento e un'informazione importante finalmente il Ministero, la Regione e la ASL hanno risolto il problema del Green Pass per le persone che non hanno il codice fiscale e la tessera sanitaria. C'è un percorso un pochino articolato, però siamo in grado di garantire il rilascio del Green Pass a chi si vaccina anche se non ha il codice fiscale.